Pronti, partenza, via! La vitamina B12 o cobalammina è una vitamina essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo, in particolare dei processi di divisione cellulare, in quanto elemento cruciale per la sintesi di alcuni acidi nucleici ed amminoacidi. L'unica fonte naturale di tale vitamina sono prodotti di origine animale, in quanto quella di natura vegetale non è assorbibile dal nostro intestino. Quell'animale, invece, durante la masticazione, si lega ad alcune molecole contenute nella saliva e raggiunge lo stomaco e poi il duodeno, dove gli enzimi pancreatici uniti al pH acido aiutano a scindere questo legame e promuovere uno nuovo con una molecola nota come fattore intrinseco di gastro, prodotto dallo stomaco. Tale composto, B12 fattore intrinseco, viene poi riconosciuto da dei recettori specifici presenti nell'intestino che ne garantiscono l'assorbimento. Da qui, la B12 viene immagazzinata in grandi quantità nel fegato, tanto che una mancata assunzione, ad esempio per dieta vegana, ne causerà l'esaurimento solo dopo diversi anni. Quando questo avviene, però, la limitazione della suddivisione cellulare si estrinseca sotto forma di anemia megaloblastica. In questo caso, si hanno pure alterazioni neurologiche, in quanto la B12 è fondamentale per la formazione della mielina che avvolge i neuroni.